ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video sono mistero e oggi siamo tornati qui con kairu su dark souls ok ragazzi oggi continueremo il nostro viaggio nelle profondità allora li vedo già non sei no non volevo attirarmi una volta sono arrivati in tre vabbè dai fino a attacchiato 1 in me cosa succede abbiamo fatto ci abbiamo fatto sì ma quale prezzo sto tizio titanite grande l'ho fatta una strada ma quindi ci ritroviamo lì durante la battaglia col boss che mi sa di sì ma no perché non ho fatto il salto dio ma non salgo non so no dove sono no ritornare di là questo mondo qua è utile e che fa e che prosciuga la vita quando attacchi cerco per partire hanno finito questo buonasera ma ma che ma dobbiamo seguire il top eccolo kirk ma che gli faccio un mega per riozzo ma si è incastrato ma non costo ricevere a kirk è tipo lo spirito scarsissimo puretto morto subito corretto ma siamo tornati siamo tornati a vabbè da qui si va il boss 1 che va bene ok a vabbè allora evochiamo perché ti segua cosa sta facendo ma sta facendo non dirmi che si è incastrato no dai un calcio ci ha una mossa dove vomita beh solere mentre tutti fai ecco bravo non sta colpendo si fate investire o madonna madonna ma sto qui si lasciami pene su cui è un po c'è sto soler qui è un po di problemini e rispetto a quello che mi ricordo nella boss fight vale boss fight E' cura di carc***o! SPRODOLINO! Mi nascondo qui non può colpirmi Ma che attacco? Soleil, signori! Cosa fate? Mancava una terza hit, se tirava una terza hit di fila era morto No ma io non voglio che mi rubi la kill Soleil No muori! Muori! Soleil Non aveva servito a nulla Soleil muori! Ma la skin d'oro guardalo lì Adesso c'è bisogno dell'osso del ritorno Perchè bisogna riandare La città infame dove c'era gente che si troppa le feci Vitalità, stamina e stamina Facciamo anche così Ma andiamo su, principalmente forza, stamina e vitalità Vai, come la prima run di tutti Vai Ragazzi, città infame Facciamo la prima parte della città infame? Ma la faccio io o la fai tu? Perchè io assicuro c'è schiatto No, no dai Ok schiatto Perchè? Eh no perchè sei... Oddio! Donna! E' vero! Quel randello lì è potentissimo! Aspetta che... C'è allora... Ci vuole un po' di forza per usarlo? Però... C'è l'attributo bonus A Se lo trovi Mh... Però è... Cioè te lo droppa molto raramente Ahahah Ecco diciamo che ti ha droppato qualcos'altro Eh si Però poi ricordiamoci che questo è una build da Chieric Quindi dovresti anche portare su fede Eeeh Addirittura Andiamo proprio così? Ah no l'ho ammazzata Eh vabbè oh calmo E' anche la città di altri eh Senti Oh no! Proprio così Dai lui te la droppa Fila, fila, fila Guarda la sua faccia gentile proprio Dio Madonna non me lo aspettavo così Dai tossicchiameno troppo Non mi ha droppato proprio nulla Nemmeno gli escrementi Come si è permesso? No sto venendo qui? No Sta venendo... No tossicità Si parla da casa sua Proprio come il cerbottaniere Aspetta 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 Guarda che ti stai... Che stai perdendo un botto di vita Oddio c***o Usa la... Ahia La Zenigata Lì come si chiama? Lucigatana Lucigatana Che ti direi? Ho la Zwayanda e la Lucigatana Vai che ti droppa l'arma Ma che ti... Si 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 Fidati qua c'è il drop Fidati di me Fidati di me Direttamente in quel posto Magia con Lucigatana Inciampati Come la prendevi le anime Ah ma è vero Siamo tornati in forma scorreggia adesso No 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 Siamo tornati in forma verga Beh per fortuna ci siamo messi un sacco Questo è un problema Scendi proprio così? Va che... Ti prego dimmi che lo shot... Quello? Buonasera No! 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 Siamo diventati dei tossici No! È finita Cosa faccio? Ma perché mi ritrovo sempre in queste situazioni? Oh! Vai su! Torna su! Vai a casa! Si! No! 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 Oh! Oh! Che cosa non ti mangia oppure si? No! 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 Non saprò mai... Secondo me di sicuro lì c'era il drop Prova a scendere? Provo! Vai vai! Prova? Si! Sono beccato un... No non ci credo! Questa città non è infame! Questa città è qualcosa di diverso È qualcosa di più... L'infame! Vabbè! È... Profondamente finita male Questo episodio Ho perso 10.000 anime Quindi! Se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto Commentate! Iscrivetevi! E noi ci rivediamo alla prossima! Ciao ragazzi! Sì! 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 Sì!